Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Technology Si è conclusa da una ventina di minuti, Napoli-Inter terminata sul risultato di 0-0 Gara che si è giocata allo stadio San Paolo di Napoli, una gara direi incredibile Non ho azzeccato assolutamente il pronostico, io avevo pronosticato un 2-2 Successo tutto il contrario di quello che credevo potesse succedere Non ci sono state reti, che poi me lo sarei anche dovuto aspettare Perché in queste gare poi non è che si segna tanto Però vabbè, considerando che anche con il Milan uno avrebbe potuto pensare che non ci sarebbero state tante reti Alla fine è terminata 3-2, sono state 5 reti totali, quindi il calcio è strano, lo sappiamo Ma è anche per questo che ne siamo innamorati Quindi ho sbagliato totalmente il pronostico Però diciamo che è stata una gara veramente molto interessante Da un certo punto di vista potrebbe essere anche noiosa Perché l'Inter potrebbe essere raccontata come una partita noiosa Perché l'Inter ha fatto pochi tiri in porta Nel secondo tempo ci siamo svegliati un po' di più dal punto di vista offensivo Ma soprattutto nel primo abbiamo tirato poco Però siamo stati a dir poco perfetti dal punto di vista difensivo Un applauso ragazzi enorme a Samira Andanovic che ha parato l'impossibile Una grande partita da parte di Milan Skriniar che ha commesso giusto un paio di errori Che contro una squadra come il Napoli sono anche comprensibili Scusatemi ma sto veramente fuso perché è stata una gara incredibile e strana anche Miranda diciamo che la sua parte l'ha fatta Sicuramente non è il Miranda di due anni fa però ha giocato abbastanza bene Bene D'Ambrosio, bene Yuto Nagatomo ragazzi ha fatto veramente molto bene la sua parte Il suo classico compitino però l'ha fatto bene Gagliardini un po' così e così Ci sono dei miglioramenti rispetto alle gare delle ultime settimane Però potrebbe ancora migliorare Comunque ha giocato abbastanza bene anche lui Borca Valero stesso discorso, un po' meglio Vesino bene, bravo Mati Grandissima prestazione a Patrick Andreva Dopo quella con il Milan continua a giocare bene Finalmente è riuscito a zittire i moltissimi tifosi nerazzurri Che soprattutto in questo inizio di stagione lo hanno criticato Perisic così è così ragazzi io ve l'ho detto Da un giocatore come Perisic valutato 50 milioni forse anche di più Voluto fortemente dal Manchester United Considerato come uno dei giocatori più forti di tutto il campionato italiano Un grandissimo attaccante, una grandissima ala Poi conosciamo tutti le qualità di Perisic Ci ha permesso di conoscerlo nella maniera migliore possibile Insomma da un giocatore come Ivan ti aspetti sempre qualcosa di più Però oggi abbiamo giocato contro il Napoli e non contro il Benevento Quindi va bene Icardi purtroppo da 5 oggi Contro il Milan è stato da 9 Oggi è stato da 5 Icardi è così Ti stupisce sempre in maniera positiva e in maniera negativa È un giocatore incredibile però va bene Si può capire Lo possiamo comprendere Per il resto insomma È entrato Gio Mario Così e così È entrato Cancelo Benino Eder poi ha toccato giusto un paio di palloni Ha fatto prendere l'ammunizione a Coulibaly Noi sappiamo tutti che Eder quando entra cambia la partita Però caro Lucianone Spalletti Anche se oggi il pareggio si va di lusso e va benissimo Il mio, il nostro caro Ederigno Lo devi mettere prima Non lo puoi mettere al quarantesimo E andiamo su Comunque un grandissimo complimento al Napoli Che ha giocato benissimo Ha giocato meglio di noi Però diciamo che secondo noi il pareggio è il risultato giusto Perché abbiamo difeso bene Perché sta nella partita equilibrata La prima squadra La squadra che al momento è al primo posto La squadra che al momento è al secondo Insomma abbiamo dimostrato di essere ancora inferiori al Napoli Però comunque sta nella gara equilibrata E speriamo che nella prossima Che sarà contro la Sampdoria Se non vado errato Giocheremo in casa Al Meazza si possa vincere Si possa tornare a vincere Però intanto possiamo avere la certezza La sicurezza La soddisfazione Di aver fermato il Napoli Che non aveva mai perso Non aveva mai pareggiato Aveva sempre vinto finora In campionato E quindi ragazzi Come ho detto Ancora una volta lo nomino Il grandissimo Roberto Scarpini A fermare il Napoli Ci pensa l'Inter Lasciate un mi piace Commentate Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto Noi ci vediamo prestissimo Con il prepartita di Inter Sampdoria Sempre e comunque Forza Inter Ciao ragazzi